ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati sul mio canale oggi è football 2024 al solito ovviamente aggiornamento del lunedì con nuovi epici ma con un po di eventi in più stranamente e una notifica importante visto anche l'andamento del videogioco nelle ultime settimane prima di avanti lo sapete quando l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciate sempre un bel like di supporto arriveranno grandissime novità anche in quanto riguarda i contenuti sul canale ho in progetto tantissime cose quindi rimanete sintonizzati adesso fogniamoci a guardare l'aggiornamento di questo oggi con partiamo dalla notizia più importante l'aggiornamento 3.1 no 3.3.1 scusate di football 2024 l'aggiornamento avrà pubblicato il 22 2 2024 e per ringraziare tutti ci arriverà un accordo al buio non so dove verrà girato ma penso negli epici con smichael eccetera eccetera oppure magari un pool e più che arriverà direttamente giovedì già questa settimana ci sono molti più eventi piuttosto che giocatori nuovi quindi è già una notizia importante cosa ci aspetta questo aggiornamento non lo so la 3.3.1 la versione .1 di solito non è questa grandissima modifica però non sono proprio fiducioso che il gioco migliorerà però potrebbe esserci qualche errore spero che non facciano questo tipo di aggiornamento soltanto per i volti tilto sicuro tilto perché non è possibile fare un aggiornamento per i volti molto più importante in questo videogioco che i volti dei giocatori in questo momento comunque speriamo bene come al solito incrociamo stia dita e niente poi ci sarà la notizia del maiconami niente di che allora andando a vedere il gioco bonus magari lo facciamo dopo andando a vedere i nuovi giocatori ci sono ovviamente smichael pt e dixon arriva il portiere più forte del gioco però prima di andare a vedere voglio voglio guardare tutti i giocatori presenti nel pacchetto come faccio di solito c'è guardiol varan i nuovi tre giocatori udoge camarà beh insomma sono i soliti giocatori magari vediamo un attimo guardiol guardiol 81 di base contatto fisico 82 questo è un mezzo epico ve lo dico già 25 livelli di crash l'unica pecca è la forma fisica normale sembra avere molte più potenzialità rispetto alla carta uscita qualche mese fa nel pacchetto english league che era presente nei pool ma adesso non c'è più varan sviluppo anche lui normale gioco così nemmeno rispetto a guardiol guardiol mi sembra veramente un diverso straordinario e niente ragazzi partiamo da smichael il portiere difensivo non mi ricordo se anche la versione precedente era portiere difensivo ma penso proprio di sì 33 livelli di crash il booster ce l'ha ovviamente sul comportamento portiere presa parata e riflessi e il portiere già ho visto delle statistiche complete e il portiere sicuramente più forte del gioco e abilità traiettoria bassa rimessa lunga parla di gore il leader insomma gran giocatore ha poco salto però è alto 93 quindi un po' dovrebbe sopperire ovviamente a questa mancanza dovrebbe fare tipo salto 80 massimo 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 comunque gran portiere Dixon terzino difensivo e qui le cose cambiano perché secondo me non è a livelli di Bergomi e Arauco ve lo dico già questo è sicuramente più scarso però rispetto a tanti terzini difensivi sembra essere un attimo più forte e quindi niente già qua partiamo col booster velocità accelerazione controllo corpo resistenza agilità più 2 nello specifico per il suo booster abilità dal giocatore taglio le spalle al giro lancio lungo cross calibrato esterno al giro specialista di rigori marcatore intercettazione muro scivolata spirito combattivo vabbè ragazzi fa tutto lui è un bel giocatore sicuramente però non lo so io non lo vedo top meta un conto era Ugo un conto è Bergomi ma sicuramente Dixon lascia il tempo che trova se paragonato a quei giocatori lì in generale comunque è una buona carta Pettioni presente il booster ce l'ha sul comportamento difensivo contrasto velocità e resistenza carta veramente di una scarsezza allucinante non è malvagio il problema è che nelle sue statistiche tende un po' a perdersi tipo il dribbling 61 il controllo corpo 56 la velocità 70 è vero che c'è il booster però quanto potrà fare 78 accelerazione 71 è buono difensivamente parlando lui può fare il mediano può fare il cc ma vi consiglio di metterlo mediano se c'è l'abilità adesso andiamo a vedere tra le tulle vede che c'è non sono pochi però non è un fenomeno non è veramente non mi piace come carta può fare addirittura il terzino sinistro ve lo sconsiglio alla grande visto quanto sia lento e visto il controllo corpo il dribbling lasciamo stare abitare al giocatore taglio di spalle di giro controllo di suola pallone attominato passaggio di prima calibrato esterno al giro passare a scavarchare marcatore intercettazione e scivolata gli mettete muro e gli fate fare il mediano se l'ho andato a girare però per quanto mi riguarda è un giocatore che può tranquillamente rimanere qua poi vabbè gli altri giocatori su un cartespecie ragazzi sicuramente Vardiolla mi ha destato interesse come Smychel ma Dixon è carino ma non fenomenale mentre Petit lasciamo a perdere il valore di questo pacchetto skip come lo è stato per la settimana scorsa con Zamorano Van Nisterroi c'è un giocatore su tre fortissimo che è Smychel però gli altri due assolutamente lasciamo a perdere e val la pena per me no per chi ha check per chi ha magari anche Khan io Smychel lo lascerei qui non è in cuore ma lo lascerei qui ragazzi non è che si può avere un portiere scende in campo ok un conto se magari siete ragazzi che scioppate non avete avuto modo di prendere check magari siete arrivati dopo allora magari prendere Smychel può essere un'ottima idea però sicuramente lo dico proprio ormai da esperto del gioco il portiere è forte fino a quando la CPU decide cerchete di interpretare bene le mie parole lo sapete io quando analizzo i poteri proprio non li guardo neanche perché potranno essere anche fortissimi ma se devono farsi autogol se lo fanno rimpalli cose ormai il suo gioco è pieno quindi potete odiarlo come amarlo nello stesso momento nella stessa giornata dipende tutto dal gameplay negli eventi invece hanno messo il secondo round il round 1 delle secondi qualificazioni per quanto riguarda le football championship open entriamo nel dettaglio accettiamo vediamo un po' ragazzoni segniamo non gol è sempre la solita storia invece che essere cinque scenari mi pare fosse comunque sempre quattro non mi ricordo comunque dovete completare l'obiettivo che vi chiede ogni singolo scenario e completate tutto e vi portate a casa le ricompense che vi da l'evento fondamentalmente non è male però insomma è un evento nuovo poi c'è il testing my limit con lo sponsor carnevale con la campagna di carnevale con chi arriva primo si becca un milione di gp e 10 programma aggiunta abilità se soltanto partecipate vi portate a casa soltanto 50.000 gp se chiudete tra i 100 e i 500.000 vi portate a casa 100.000 gp insomma vedete un pochino voi come organizzarvi se lo volete fare ovviamente è una questione che dovete fare quanti più risultati positivi non so se in 15 partite non mi ricordo come funziona il testing ma il limite ma penso di sì quindi 15 partite e dovete cercare di fare una serie di vittorie e di gol soprattutto che vi possono portare in alto in classifica non è male è comunque un diciamo un contenuto in più da portare poi c'è l'English Club ovviamente al solito 50 monete football e poi negli eventi di controlli c'è l'English Club anche qui dovevi portare a casa il programma aggiuntabilità e qualche gp c'è da dire che negli eventi qualcosina è arrivato sicuramente niente che ci faccia ci faccia lucidare gli occhi insomma gridare il miracolo però diciamo che l'aggiornamento che potrebbe arrivare potrebbe essere qualcosa di buono come non e soprattutto secondo me sperare che il gioco possa possa riprendersi veramente perché è da quando hanno fatto l'aggiornamento 3.3.0 che il gioco vive male vive veramente male quindi aspettiamo incorcio sempre le dita ragazzoni e niente fatemi sapere voi cosa ne pensate spero che questo video vi sia piaciuto lasciate sempre un bel like mi raccomando stra importante ci vediamo in live stasera ore 21.30 sul mio canale Twitch tutto sotto il link in descrizione vi auguro una buona giornata e come sempre buon giorno a tutti ciao ragazzi